Le parole sono arrivate dopo, dopo la sofferenza, il dolore e poi la morte del padre definito il mio migliore amico. Una lettera del figlio Mattia a papà Totò condivisa anche sul profilo ufficiale del campione, amato da tutti come hanno dimostrato ieri i funerali ai quali hanno partecipato migliaia di persone. Ti avevo promesso che sarei stato con te fino alla fine ma ti ho mentito perché tra me e te, tra il nostro legame, nel nostro amore non ci sarà mai fine. Grazie per quello che sei stato, grazie per quello che ci hai dato, grazie di tutto papà, prima o poi ci rivedremo, ti amo. Mattia Schillacci vive a Oporto in Portogallo dove fa l'odontoiatra, ha vissuto le ultime settimane al fianco del padre in ospedale insieme ai fratelli e come spesso accade negli avvenimenti importanti ha aspettato qualche giorno, qualche ora per dare voce allo sgomento, ai sentimenti che si sono fatti in strada fino a diventare parole. Tutti ti hanno conosciuto come l'eroe delle notti magiche ma purtroppo scrive per loro nessuno ti ha conosciuto come padre. Sei stato l'esempio più bello, il supereroe che tutti i bambini sognano quando chiudono gli occhi. Te ne sei andato via così, all'improvviso, come facevi tu, sempre a stupire, senza preavviso. Un macigno nel cuore, nell'anima, una pugnalata nel petto, una ferita enorme e le cicatrici rimarranno per sempre. Hai combattuto come un leone, conclude Mattia Schillaci. Il tuo cuore era d'acciaio, eri legato alla vita. Così mi ha detto quella dottoressa con gli occhi azzurri in quel reparto, negli ultimi giorni. Sei nato combattendo e sei andato via allo stesso modo. Noi saremo sempre insieme, ovunque tu sia.